E' un'energia pulita perché è un'energia che fa parte delle rinnovabili, cioè è un'energia che continuamente produce se stessa, perché è un ciclo ed è il ciclo che partendo dal rifiuto, quindi da qualcosa che fino a decenni fa era impensabile recuperare, quindi le discariche andavano per la maggiore, invece adesso si può ritrasformare in qualcosa, in un prodotto, diciamo una materia prima che viene riutilizzata dalla cittadinanza. Una colonnina per ricaricare i mezzi elettrici grazie all'energia prodotta dall'impianto di Sanzeno, una colonnina messa a disposizione della cittadinanza alla quale si potrà accedere attraverso una app. Questa non è la prima colonnina di ricarica per auto elettrica che abbiamo in città, ma è la prima e non solo ad Arezzo, anche in Italia, che è completamente gratuita e con il refill che viene direttamente da energia prodotta in maniera pulita da un impianto di recupero. Questa è la grande novità e la grande particolarità di questo impianto, che poi si classifica come un impianto che verrà, credo, tra non molto, affiancato anche da un refill a metano. La colonnina viene segnalata a chiunque fa una ricerca su internet e di conseguenza vi si può accedere attraverso una app. Tramite la geolocalizzazione, questa è la nostra postazione, indicazioni stradali, eventualmente non siamo vicini, comunque sia, dall'indicazione stradale, clicca per aprire il varco. Arezzo viene vista, grazie all'applicazione per accedere a questo punto di ricarica, come un luogo, una città assolutamente pronta ad accogliere chi avesse bisogno, ad esempio di venire, che ne so, con un'auto elettrica dalla Svizzera, qui troverà la soluzione per tutta la ricarica.